Ho frequentato 5 anni all'ospedalieri e parlando in maniera razionale sono stati probabilmente i 5 anni più intensi della mia vita. Non solo per l'esperienza in sé, per quello che è stato il liceo, che chiaramente è un'esperienza fondamentale nella vita di ogni persona, ma proprio perché questa scuola ha lasciato in me un segno fondamentale, sia per il contatto che ho avuto con i professori, quello che mi hanno trasmesso, ossia l'amore anche per materie, quali la matematica e la fisica che mi hanno portato a iscrivermi a una facoltà quale Ingegneria, attualmente frequento il primo anno di Ingegneria Civile Ambientale e Gestionale. Mi sto preparando per uno degli esami più complicati del corso, che è quello di Analisi 1, ma poi per quello che è stata la scuola in sé, il legame con gli studenti e anche le esperienze che ho vissuto, teatro e non solo. Per cui quello che consiglio a tutti è in generale di vivere il liceo al massimo delle proprie possibilità e ringrazio l'ospedalieri perché è stata la mia casa per cinque bonifici anni e mi ha insegnato di ardere per le mie passioni. Quindi grazie ospedalieri! Grazie! Grazie!